Siamo nel centro di Buonabitacolo con il sindaco Beniamino Curcio. Dottore Curcio, c'è un problema che risale evidentemente da tanti 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 anni fa riguarda la querella con l'Intergras, un problema al quale ancora una soluzione adeguata non è stata data. Che spiragli lei vede di soluzione? Io proprio qualche giorno fa ho messo sullo sito del Comune una mia comunicazione. Il titolo di questa comunicazione è questo, Intergras, due punti, una situazione sempre più angosciante. Oramai il problema viene da lontano, parte dal 78, poi il periodo di chiusura, poi è stato rinnovato nel 93, eccetera. Insomma, partendo dall'ultimo consiglio comunale, perché da lì dobbiamo partire, in cui facciamo un comitato per vedere se c'era una terza via di uscita per queste problematiche. Sostanzialmente, dagli incontri che abbiamo avuto al Comune anche con la ditta, non siamo riusciti a trovare una soluzione. Perché? Perché la ditta è disponibile a fare una riconversione, ma la ditta intende la riconversione, come il fatto che dice voi vi acquistate il sito, la fabbrica, insieme all'aria, mi date quello che lui chiede, una cifra non sostenibile per il Comune, quindi parliamo di oltre un milione e mezzo di euro, quindi una cifra assolutamente che non è nelle disponibilità del Comune, e io quindi me ne vado. Non è quello che noi pensavamo, anche perché certamente ci vogliono degli investitori, non basta solamente il Comune, quindi non siamo in condizione di poter aderire a questa richiesta. Però nel frattempo, quindi dopo che abbiamo fatto il consiglio comunale, ci sono state altre vicende un po' antipatiche, che se ne è parlato anche sui giornali, mi riferisco all'inquinamento che c'è stato nel fiume Calore, questo sversamento dichiarato accidentale da parte della ditta, però sappiamo che non è la prima volta che si verifichino questi sversamenti accidentali, e sono cose che non vanno bene perché poi deturpano l'ambiente e creano tensione anche nell'opinione pubblica. In più c'è stata una diffida formale, perché sulla base di questi pranivi che facevamo nel fiume Calore c'è stato poi un secondo accertamento da parte dell'ARPAC, un altro accertamento da parte della provincia, sulla base degli esiti delle prove, quindi delle analisi dei laboratori che ha fatto fare l'ARPAC, sia su campioni che fu prelevato dal Comune, sia su campioni che hanno prelevato loro autonomamente, siccome alcuni parametri erano fuori norma, sulla base di questo l'ARPAC ha fatto una diffida formale, in base al decreto legislativo 59 del 2005. Quello è il primo passo, però è una cosa antipatica, perché se persiste questa situazione chiaramente poi si possono applicare anche sanzioni un poco più gravi. L'altro ieri siamo stati convocati dalla Regione Campania, a Salerno, dal settore ecologia, perché io alla luce di questi sversamenti, alla luce della diffida, ritenendo quindi che la diffida in questa fase fosse poca cosa, perché insomma io credo quindi che noi ci dobbiamo fermare un attimo, dobbiamo capire che cos'è che non va nella fabbrica, che poi quindi può anche ripartire, ma deve ripartire con il piede giusto, se ogni volta che riparte, poi abbiamo sempre questo annoso problema della cosiddetta puzza, quindi allora qua veramente diventa un fatto angosciante, non possiamo andare più avanti. L'incontro che abbiamo fatto alla provincia, per la verità l'ARPAC era assente, questo non è una cosa favoribile. Io formalmente a Salerno, quindi davanti al dirigente del settore, dottore Nicola Sedaro, Antonio Sedaro, ho chiesto che dobbiamo riaprire la conferenza di servizi, perché ci sono troppe carenze in quella conferenza di servizi che sono state fatte nel 2009, l'autorizzazione che è stata rilasciata in favore della ditta è un'autorizzazione che a noi ci convince poco, allora noi siamo per riaprire questo procedimento. Il settore ecologia ha preso un po' di tempo e ha chiesto formalmente all'ARPAC di fare un'altra verifica. Io ho dato dei tempi stretti, se nel giro di poco tempo veniamo a capo di questa vicenda, altrimenti non resta che l'altra soluzione, quella che io non volevo portare avanti, quella di chiedere formalmente la chiusura della fabbrica. Mi rendo conto anche che non è facile, perché il sindaco in quanto autorità sanitaria può intervenire solamente se ci sono problemi, problematiche, quindi pericoli e danni per la salute. Io solo in quelle condizioni posso fare un provvedimento diretto, però io posso chiedere, perché io quello che ho ribadito e ho sottolineato con forza l'altro giorno a Salerno, è la salute pubblica, quindi chiaramente c'è questo problema che va risolto, altrimenti qui diventa veramente incompatibile la presenza della fabbrica con il contesto socio-economico locale.